Musica Un buongiorno con Mattino 6, il nostro appuntamento quotidiano con la Rassegna Stampa, martedì 15 ottobre. Leggendo i giornali parleremo di politica interna ma anche inevitabilmente del crimine che si sta perpetrando in Rojava ad opera delle milizie turche. Ma andiamo subito a scoprire cosa è successo in Italia, nel mondo e nel nostro Abruzzo ovviamente dalle prime pagine dei quotidiani a partire da quelli regionali, dal centro. Assalto al bar e allarme in centro, a Pescara ladri scatenati, nuovo colpo notturno, commercianti preoccupati. Vediamo nel taglio alto la politica nazionale, manovra manca l'accordo, cuneo e salario minimo, i nodi slittato a oggi il Consiglio dei Ministri. Nella fotonotizia la visita a Pescasseroli e l'Aquila del Ministro dell'Ambiente, il Ministro Costa presenta Cannata, nuovo Presidente del Parco. Nomine scontro Marsilio, Fioretti sulla revoca di Di Lorenzo. Ancora a Teneo c'è il Salone degli Studenti, a Chieti da domani alla Camera di Commercio, il campus per orientare i ragazzi dopo il diploma. A Cepagatti il lavoro nero stop all'attività del nightclub, a Pescara la pista ciclabile di Viale Muzzi sarà modificata. Andiamo avanti sul centro sulla pagina di Chieti, Lanciano e Vasto. Chieti diventa capitale degli studenti, come abbiamo visto nel titolo precedente, alla Camera di Commercio, il campus con gli Atenei per l'orientamento. E ancora Chieti verso il patto tra 5 Stelle e PD per le prossime elezioni che si terranno l'anno prossimo. Ortona raffica di multe con le telecamere antifurbetti e la cronaca muore schiacciato dal suo trattore. A Casoli l'uomo di 69 anni si preparava la raccolta delle olive e è finito in un fossato. Andiamo avanti sulla pagina di Terramo. Teatro Romano c'è l'ok al progetto, via libera anche dalla soprintendenza per il recupero dell'area. Al Mazzini di Terramo nuove tecniche per trattare tumori e calcoli. La novità nella ricerca scientifica. Castelnuovo Vomano infortunio sul lavoro operaia ferita. Simone non ho ucciso mamma. Processo per il delitto di Giulianova. Santoleri Junior respinge in aula tutte le accuse. Ma ancora la politica di Giulianova, colloqui di pace tra la Lega e Costantini. Andiamo avanti sulla pagina dell'Aquila Vezzano e Sulmona, sia all'ascensore di Collemaggio, all'Aquila via libera al collegamento tra il terminal bus e l'emiciclo. E all'Aquila a dieci anni dal terremoto, da dieci anni cerca il Ruspista che l'ha salvata. Una superstite di quella tragica notte. A Cerano, Beato Tommaso, il pellegrinaggio che fa storia, ma poi la cronaca. Incendiata l'auto di un operaio a Sulmona, ennesimo attentato col fuoco in città. Si sospetta un episodio di ritorsione. Sulla pagina del messaggero dedicata alla nostra regione, il titolo è Grandi rischi. Ci rassicurò terremoto, la causa civile per la morte della studentessa universitaria Ilaria Rambaldi. L'amica durante lo sciame fuggivamo. La commissione ci convinse a restare a casa. Parliamo della commissione Grandi rischi che durante quei sei mesi di terremoti rassicurò i cittadini che non sarebbe arrivata la scossa decisiva. Daniele Toto, crack della Libra, finanziere accusa in tribunale. Ormai alle battute finali il processo per bancarotta fraudolenta. La fotonotizia dedicata alla visita del ministro dell'Ambiente Costa. Tutti gli orsi sono preziosi. Il ministro Costa ha visitato ieri il Parco Nazionale. Gli orsi sono un bene prezioso, ha detto il ministro. Andiamo sulla città, il quotidiano della provincia di Teramo. Reati, la piaga e l'usura. Teramo si colloca al 49esimo posto tra le province meno sicure d'Italia. La fotonotizia è pronta. La nuova scuola antisismica nell'isola del Gran Sasso. Taglio del nastro fissato al 9 novembre. Metalmeccanica ferita dalla pressa. Incidente in una ditta di Castelnuovo. Grave una cinquantenne. Ma andiamo sui quotidiani nazionali. A partire dal Corriere della Sera. Se lo riusciamo ad aprire. Per scoprire un attimo la politica nazionale e internazionale fuori dai confini dell'Abruzzo. Allora, un secondo. Il bello della diretta. Chiedo scusa. Cerchiamo di andare avanti con la nostra rassegna stampa. Eccolo qua. Il Corriere della Sera. tetto ai contanti, ma nel governo, è lite sulle misure. L'ipotesi pagamenti elettronici oltre i mille euro. Ma ancora i giudici riaccendono Barcellona. Lo vedete nella fotonotizia. L'incidente in piazza. Condannati i leader catalani. Vediamo nella fotonotizia gli scontri tra i manifestanti e la polizia. E ancora andiamo avanti. Il reportage per quello che sta succedendo in Medio Oriente. in fila alla frontiera. Il terrore e la fuga verso l'Iraq. Persa la libertà. Andiamo avanti con la Repubblica. Europa vergognati. Titola Il Quotidiano. Denunciando appunto la complicità dei paesi nato. La UE condanna Erdogan, ma solo a parole. Il nostro governo blocca le vendite di armi, ma solo per il futuro. Le truppe turchi avanzano sulla città, simbolo di Kobane. L'esercito siriano entra nei territori kurdi. Soltanto il calcio si ribella. No alla finale di Champions a Istanbul. Vediamo anche la notizia dall'economia. In Nobel a chi combatte la povertà in strada. I vincitori del Nobel. Quest'anno sono tre. Una coppia. Marito e moglie. Riusciamo. Chiediamo scusa un attimo per questo incendio. Andiamo sul fatto quotidiano. La società fantasma dell'Air Force Renzi. Altro giallo dopo il costo folle. E ti ha d'acquista da una fantomatica UTHL. Che nessuno sa cosa sia. Continua l'inchiesta del fatto contro gli affari illeciti dell'ex premier Renzi. In Umbria, Tesei, il candidato della Lega, candida quelli di Pop Spoleto, altro che moralizzatrice della regione. E ancora gli Scali. Speculazione da 1,25 milioni di metri quadri. Milano. Il Tar decide sul ricorso di Italia Nostra. E prima di continuare con Libero, che già vedete in sovrimpressione con la nostra rassegna stampa, che continueremo tra pochi minuti con i quotidiani nazionali per scoprire le notizie fuori dalla nostra regione, ci fermiamo per un piccolo break pubblicitario. A tra poco. Grazie. Grazie. Di nuovo in studio, di nuovo operativi pronti a spulciare le notizie di questo martedì 15 ottobre. Riprendiamo da dove eravamo rimasti. Da Libero, che come al solito fa un titolo pronto a suscitare polemiche. Governo di Straccioni vuole rieducarci a colpi di tasse. Coca-Cola, Airy, Snack, bottiglie di plastiche. L'accordo non c'è. I giallorossi si attaccano a tutto per raccattare soldi. Manovra in alto mare. Azzereremo gli sgravi fiscali. sopra i 100 mila euro. Vediamo la fotonotizia. Barbara D'Urso, la TV è donna. La D'Urso fa pezzi. Il povero Fazio doppia gli ascolti di Che Tempo, Che Fa, anzi che farà da quando è su Rai 2. Il Parlamento si sgonfia e si rigonfia. Tagliano 345 poltroni e assumono però 360 burocrati. e intanto la politica interna ha messo K.O. Di Maio e Zingaretti. Si parla di Conti, il capo dei 5 Stelle, ma si vergogna a dirlo. E intanto gli esteri, oltre 600 arrivi in due giorni, e la sinistra frigna. Ormai gli sbarchi sono un festival. Andiamo avanti sul messaggero. Rissa sui conti. Manovra rinviata. Il Consiglio dei Ministri slitta oggi. Lui di il varo del decreto. Lo scontro su quota 100. Il PD, fondi per i pensionati. Di Maio, il Cuneo ora deve scendere per le imprese. Recuperati 3 miliardi di coperture dal fisco. E anche lo spazio dedicato ai kurdi. Siria all'Europa divisa. Sull'embarco l'esercito di Ancara verso Kobane. L'Italia stoppa nuovi contratti con la Turchia. Nella fotonotizia, da un lato i sovrani d'Inghilterra. Rondra verso l'uscita. La regina Brexit a fine mese. E dall'altra la Catalogna, dove condanne leader. 13 anni a un keras stangata per i separatisti. Dopo le proteste che si erano accese nei mesi scontri contro il governo nazionale. Andiamo avanti sul manifesto. che titola con questo strappo della bandiera europea disarmante. L'Unione Europea condanna Ancara, ma sceglie di non decidere sull'embarco unitario di armi al sultano Erdogan. Di Maio annuncia l'addio italiano alle forniture militari, ma solo per il futuro. Le forze turche intanto minacciano Mambige e Kobane. 200 mila gli sfollati di Genfuga. Dopo l'accordo con i kurdi, l'esercito di Damasco entra a Rojava. L'accordo di cui stiamo parlando perché è intervenuto l'esercito siriano con l'intermediazione russa. E uno dei generali delle milizie kurdi ha detto meglio schiavi che morti. Catalogna ha proteste in tutta la regione contro una sentenza politica con danni durissimi ai leader indipendentisti. Intanto la manovra guerra di Veti slitta il Consiglio dei Ministri e per quanto riguarda l'ambiente la legge di bilancio e l'emergenza climatica. Ma vediamo rapidamente tutto il quadro geopolitico che ci propone il manifesto. Tunisia, il nuovo presidente Said diritti a rischio. L'Equador, Moreno fa marcia indietro e vincono gli indigeni e l'Indonesia a morte sospetta di un avvocato ambientalista. Intanto in Ungheria il centrosinistra sfila Budapest a Orban. Andiamo avanti sul giornale. Fregatura, stangata, servita. Mancano i soldi, il governo fa il gioco delle tre carte e alla fine il conto della manovra del popolo lo pagherà per l'appunto del popolo. E i più tartassati sono il Ceto Medio e il Nord. Intanto vediamo nel taglio laterale cambio di linea. Salvini sull'Euro fa retromarcia, flop sovranista. Così la Lega guarda adesso al centro. Nel frattempo i migrati assalto alle frontiere, allarme da est a sud. E tornano i profughi sulle navi ONG. Dopo i mini sbarchi a Lampedusa dei giorni scorsi. Eccoci sul mattino di Napoli. Caos, conti, slitta la manovra. Pensioni, c'è il mini aumento. Scontro su quota 100, 5 stelle. Il cuneo fiscale deve scendere per le imprese. Slittano i versamenti IRPEF. Sgravi a chi paga idraulico o elettricista con la carta. La fotonotizia dedicata alla guerra in corso. La Siria del Nord e i kurdi. Il patto Erdogan-Putin-Assad che può fermare la guerra. Intanto, il cran di Avellino. La Lega sta con noi. Indagato il segretario. L'accusa di PM. Voto di scambio. 23 gli arresti. Si dimette Morano. Responsabile provinciale. Si incondono l'inchiesta del mattino. La Lega in Campania avrebbe stretto accordi con la camorra. Andiamo sul giornale di Confindustria. Il sole 24 ore. Fisco rinvio rate per 4 milioni di imprese. Con la proroga ISA e Forfè Gualtieri. Trova 3 miliardi per la manovra. I pagamenti in scadenza il 18 novembre. Slittano al 16 marzo. E vediamo lo scontro sulla manovra. Da quota 100 al Cuneo. La lite 5 stelle con PD e Italia Viva. Scontro fra i tre partiti. Anche sulle microtrasse a tasse per plastica, diesel e tabacco. Intanto una novità dal mondo della moda. Oltre che da quello della finanza. Gli anfibi Dottor Martins. Quotati a Londra. Andiamo avanti sulla stampa. La fotonotizia è dedicata alla Catarogna. 100 anni di prigione. Ai nove leader catalani. Rabbia a Barcellona. L'unica via sono le urne. Una repressione da parte dello Stato. Nei confronti dei leader indipendentisti. Che non potrà che suscitare nuove polemiche. Gli esteri. La Siria. Sad Erdogan. Verso la guerra. No dall'Unione Europea. All'embargo. Quando i soldi sono più importanti delle belle parole. Se dal curriculum sparisce la data di nascita è il caso. Ma intanto la politica interna. Manovra non c'è accordo. Scontro di Maio Renzi. Lite su quota 100 e cuneo fiscale. Torna l'ipotesi di indicizzare le pensioni. Il Tempo. Il Tempo. Un governo di Gretini. Che ruba la battuta a Sallusti. Rissa sulla manovra. Sono d'accordo solo a tassare fumo e plastica. Per far cassa. E' bella figura. Fioramonti vuole le imposte etiche. Soldi alla scuola. Stangando bibite. Caviale. E cibi di lusso. Intanto la vignetta di Oscio. Quanto ci arzamo. Costeova. Secondo me. Dulavagne. Tecevengono. L'ironia. Della fumettista. Del tempo. Dimissioni per la fuga di notizie. Velene in Vaticano. Il capo gendarme. Paga. Per tutti. E intanto domani la Cassazione. Per la bomba spazzacorrotti sul processo. Mafia capitale. Sarà applicata la nuova norma. Ma gli imputati VIP rischiano di finire in carcere. Intanto Salvini ha cambiato idea. Neanche la Lega ha più certezze. Beh. C'è da dire che non è la prima volta che avviene questo cambio di rotta. Anche nel partito padano. Il secolo di Francesco Sorace davvero fu mafia capitale? Da domani in Cassazione il giudizio definitivo. Sul secolo videotestimonianza di uno degli imputati. In primo piano rivolta anti-zingaretti. Il web dice no all'asse PD 5 Stelle. La Siria è sotto attacco. Dove sono i radical chic? L'appello di Stolace a Saviano Boldrini e Litizzetto. Alto Adice è cancellato. Mossa di Fratelli d'Italia. La verità. La guerra dei De Benedetti rischia di finire in procura ai risvolti politici della faida familiare. Dopo il clamoroso tentativo stile del padre per riprendere il controllo del gruppo che è di Tarepubblica e la stampa. I figli valutano possibili azioni legali. L'ipotesi di un intervento per disturbare altre trattative. Nella fotonotizia lo vedete il ministro degli esteri Di Maio. Sulla Turchia l'Unione Europea è un fantasma e Di Maio annuncia un finto embargo. E i grillini stanno col PD tentare di linciare una Iena. E ok su le polemiche mediatiche. Le mani di Conte su quota 100 e detrazioni a caccia di 5 miliardi. Il governo studia ancora tasse e tagli sulla misura leghista. Si spacca. E intanto il reddito di cittadinanza, il nuovo oppio dei popoli, la citazione di Karl Marx. In quel caso si parlava della religione, ora il reddito di cittadinanza che secondo questo quotidiano rende sudditi. Vediamo anche gli scontri a Barcellona, pesanti condanne a leader separatisti catalani. E un giudice crea il matrimonio transgender. Marito e moglie cambiano sesso. Il tribunale cambia i documenti. La prassi burocratica si è risolta. Normalmente il secolo XIX manovra ai tempi supplementari. L'ite su cuneo fiscale quota 100. PD e 5 Stelle chiedono misure diverse. Il governo offre ai sindacati un intervento per rivalutare le pensioni. Vediamo Siria. Assad arruola i curdi per la guerra contro la Turchia. Sono entrati nelle truppe regolari. A Barcellona ha condannato i leader separatisti. Adesso è ancora rivolta per le strade catalane. Noi ci spostiamo sull'avvenire di ispirazione cattolica. Disarmare Ancala. L'appello dei cattolici di Maio. Subito un decreto per bloccare il nostro export di armi alla Turchia. L'Unione Europea trova una voce sola di condanna. Merdogan avanti fino a Kobane. Perché la condanna europea, come quella americana, è solo in televisione e sui social network. Continua l'avanzata in Siria. I danni dei curdi. Trump si ritira e promette sanzioni pesanti. Intanto il tradimento è evidente e gravissimo. Un mattoncino per la famiglia. I nodi di quota 100 e cuneo. Slitta oggi il Consiglio dei Ministri. Per le detrazioni, nuovi limiti per i redditi. Oltre 100 mila euro. Andiamo sullo sport. Lasciamoci almeno per il momento la guerra alle spalle. Eccoci sulla gazzetta. Cristiano Ronaldo. Sempre. Ronaldo fa il gol 700. La Juve lo blinda. Un rigore col Portogallo in Ucraina. E Cristiano tocca un'altra vetta. Non insegue il record. Ma sono loro che inseguono me. Paradice Sicura resterà con noi. Fino a fine contratto. Che festival. 30 o 65 mila presenze. Cairo entusiasta. Fenomenale. Grande successo della manifestazione della gazzetta. Ma Zaniolo e Tonali. L'Italia ancora più verde. Mancini fa largo ai giovani. Deve assegnare 5-6 posti in vista dell'europeo. Calcio shock. Saluti pro Erdogan. Visto che era troppo semplice lasciarci quella orribile questione alle spalle. La bufera contro la finale a Istanbul. L'attacco della Turchia ai kurdi. Perché come vedete nella foto la nazionale turca ha fatto il saluto militare davanti alle telecamere. Proprio in sostegno del nuovo califo. Recep Erdogan. Coro caso razzismo a Sofia. Bulgaria e Inghilterra. Due stop per i Bu. E intanto è morto un tifoso inglese. Guardiola intanto sempre per vedere anche le reazioni dello sport che a volte prendono posizione prima della politica. Dopo la condanna agli indipendentisti. Guardiola pro Catalogna. In Spagna non c'è libertà. Andiamo avanti sul Corriere dello Sport. L'affare Lukaku a centropagina. Al Romelu in ritardo. Icardi convince Parigi. Dubbi degli interisti. Tre gol. Ma qualche altruismo di troppo in aria. Problemi alla schiena e al quadricipide. Perché il belga non è ancora il campione che Conte aspetta. Ruiz rinnovo antireale. Zidane vuole lo spagnolo. Il Napoli prepara il contratto. Andiamo in casa Milan. Il Pozzo Nero dei Cinesi. Al proposito del bilancio della squadra. Rosso Nera nel taglio alto. Scopriamo l'altra Italia. Vediamo mister Mancini. Contro il Leicestein. Mancini lancia Sirigu, Zaniolo e Belotti. E punta sulla nona vittoria consecutiva. Io come Pozzo mi mancano ancora due mondiali. L'ironia del commissario tecnico. Eccoci su Tutto Sport, confessioni Juve. La verità di Dybala, Buffon e Delict. Che vedete in foto. La mamma dell'argentino. Sì, Paolo ha ritrovato la gioia. Buffon, io ubriaco di birra dopo il debutto in Serie A. Il difensore olandese. All'Ajax mi sentivo invincibile. All'Ajax ho capito che devo ancora imparare tanto. Nel taglio alto il nostro Gigi Meroni ci lasciò 52 anni fa. Parlano Ceres e Refossati. E Cristiano Ronaldo resta come abbiamo visto fino al 2022 in maglia bianconera. Belotti e Sirigu a voi a proposito di nazionale. Spazio e Granata in Leicestein. Mancini vede Pozzo. Andiamo nel taglio basso. L'Atalanta-Inter infortuni. L'allarme Zapata-Sanchez. E da Brosio sono K.O. Per questa prima parte della nostra rassegna stampa è tutto. Adesso di nuovo un piccolo break pubblicitario. Ma rimanete con noi perché subito dopo andremo a leggere pagina per pagina i quotidiani abruzzesi. A tra poco. Tornati dalla pubblicità, martedì 15 ottobre andiamo a sfogliare pagina per pagina i quotidiani abruzzesi. A partire dal centro, in prima pagina 2, anzi revoca delle nomine ASPO, ovvero dell'azienda dei servizi alla persona, scontro Marsilio. Fioretti. L'assessore non porta all'atto per azzerare i vertici dell'azienda e se ne riparla oggi. La giunta dice sì alla dismissione delle carte di credito per le missioni istituzionali. E' febbo, apre il tavolo sul credito, necessario arrivare alla fusione di FIRA e Abruzzo Sviluppo. Forte incidenza del reato di usura, lo ha detto l'assessore regionale alle attività produttive. All'Aquila assegnazione case popolari, la legge va oggi in consiglio. E per quanto riguarda il turismo, l'Abruzzo guarda all'estero oltre 100 i contatti con operatori internazionali alla FIRA di settore. A Rimini. E adesso con la visita del ministro Costa in Abruzzo, parchi carta vincente del turismo, il ministro che vanta origini marsicane, presente il nuovo presidente Cannata e lancia la zia alle zone economiche ambientali. E all'Aquila, passeggiata in centro, la città sta rifiorendo, è bellissima, ci vivrei ma devo convincere mia moglie, ha detto il ministro che ovviamente, come molti fanno, dà la colpa alla moglie che non poteva replicare. Paolo Esposito è il nuovo direttore del GSSI, originario di Chieti, capo dell'ufficio speciale per la ricostruzione, adesso è il nuovo direttore. Andiamo avanti. Spreco alimentare in Abruzzo, 56 milioni di euro nel Cassonetto, siamo la regione italiana che butta più cibo nella spazzatura. I consigli ad i consum, fare bene la spesa e utilizzare gli avanzi per ridurre appunto lo spreco alimentare. Autismo, incontri su norme e assistenze, domani prima tappa all'Aquila. Andiamo sulla pagina di Pescara, un nuovo furto in centro, via Fabrizi, barra saltato dai ladri, ora allarme tra i commercianti. Secondo colpo notturno in pochi giorni nel cuore della città, rubando il denaro custodito in cassa, Pescara al ventiquattresimo posto in Italia per i ride nei negozi, secondo i dati del 24 ore, ma i reati sono in calo. Pista in via Lemuzzi, da cambiare, il comune prepara un progetto per la pista ciclabile, commercianti ridateci i parcheggi. I residenti serve qualche correttivo, come vedete i cittadini sono divisi sul futuro del percorso delle biciclette. E i lavoratrici in nero scatta lo stop al night, c'è pagati sospesa l'attività della Venere, trovate 10 ragazze straniere non in regola, il titolare multato e denunciato. E il comandante Palano in pensione, Rigopiano un insegnamento, ha detto l'ex a questo punto comandante dei vigili del fuoco, ma quindi ascoltiamolo nell'ultima intervista nel nostro servizio. Simbolicamente questa divisa racchiude qualche cosa che non può finire nel momento del pensionamento, ma che ci porteremo con noi per sempre. Il comandante dei vigili del fuoco della provincia di Pescara, Vincenzo Palano, va in pensione e lascia la regenza del comando a Daniele Centi. Palano, che ha passato gli ultimi tre anni della sua carriera nel comando di Viale Pindaro, ha tracciato un bilancio della sua attività ricordando per prima cosa i terribili giorni della tragedia di Rigopiano. Parlando di Rigopiano parlavo di quanto è importante fare previsioni degli eventi e mettere in atto misure di prevenzione, perché là dove ci sono i rischi, i rischi vanno analizzati. Vanno analizzati e va fatto quello che è necessario fare perché nel momento in cui l'evento si determina, l'evento possa provocare il minor danno possibile. Questa è un'attività che secondo me non si fa ancora a livello in cui si dovrebbe fare. Noi che siamo, noi vigili del fuoco, che lavoriamo molto sull'analisi del rischio, sappiamo come si possono evitare tante situazioni negative se vengono analizzate prima e se vengono messe in atto tutte quelle misure che tendono a fare in maniera che i danni non ci siano. Palano aveva assunto il comando dei vigili del fuoco provinciali di Pescara nel 2016 prendendo il posto di Pietro Di Risio. Per lui fu un ritorno a Pescara dove aveva già lavorato con l'incarico di funzionario di guardia tra l'84 e l'87 e dove poi era stato vice comandante provinciale tra il 1987 e il 2003. Quindi è stato facile per me riuscire a raggiungere una serie di risultati che sono stati quelli di aprire principalmente il distaccamento permanente di penne, il distaccamento poi volontario di letto manoppello, avere maggiormente a disposizione ulteriori attrezzature e automezzi sul comando di Pescara, di aver fatto in modo di iniziare un percorso probabilmente risolutivo per la nuova caserma di Pescara. Torniamo sul centro, la nazionale in verde dimentica anche lo scudetto di D'Annunzio, tocca anche Pescara la polemica sul colore della maglia indossata dall'Italia nella sfida contro la Grecia. Fulvate, inventare a fiume il tricolore da porre sulle casacche delle squadre vincitrici dei campionati, una scoperta, un'invenzione degna di Leonardo da Vinci. Andiamo a Montesilvano, il nuovo terminal dei bus in un'area del Dog Village. Cozzi, il progetto presentato da Tua prevede dieci posti per i mezzi pubblici, ma venerdì parte la protesta, in campo anche le associazioni ambientaliste, ennesimo grattacapo per il trasporto unico abruzzese. E la Nike non torna indietro, il 17 novembre si chiude, Città Sant'Angelo ieri vertici della multinazionale hanno incontrato i lavoratori, proposto un contributo per il trasferimento, i sindacati licenziamento mascherato, stiamo parlando del punto vendita chiuso al Village di Città Sant'Angelo, e da allora i dipendenti sono in sciopero perché dovrebbero essere trasferiti a centinaia di chilometri di distanza. Marijuana nello zainetto, denunciati quattro ragazzi, Francavilla e i carabinieri, agli hanno sorpresi lungo Via Le Tosti, avevano tentato la fuga in auto dopo essersi disfatti della borsa contenendo ben 220 grammi di droga. Andiamo avanti, chiesa danneggiata, servono 100 mila euro per le riparazioni, appenne a San Domenico problemi agli impianti elettrici, il parroco Don Andrea abbiamo bisogno dell'aiuto statale. Andiamo avanti, eccoci sulla pagina di Chieti, studenti universitari, Chieti diventa la capitale. Da domani alla Camera di Commercio, il campus con 50 fratenei, enti e istituti, l'obiettivo è orientare i ragazzi dopo il diploma Strever più formazione. E sì, perché quella dopo il diploma è una delle scelte più complicate per i giovani neodiplomati che dovranno decidere se continuare gli studi. Vediamo appunto l'iniziativa organizzata dalla Camera di Commercio nel nostro servizio. Il 16 e 17 ottobre all'ex Forobuario di Chieti torna il Salone dello Studente, la più importante iniziativa in Abruzzo per le scelte post-diploma. In un paese dove il 36% di studenti abbandona già il primo anno di università, l'orientamento alle scelte post-diploma è fondamentale per aiutare i giovani a scegliere veramente bene cosa fare in futuro. E vuole rispondere a questa esigenza, proprio l'evento presentato questa mattina, con oltre 50 stand di università e accademia di tutta Italia e 24 fra seminari e workshop. Salone dello Studente è l'occasione fondamentale per i ragazzi per conoscere e avere il quadro di quali sono le loro opportunità una volta terminate le scuole medie e superiori. Questo è molto importante. Noi in Italia purtroppo abbiamo una forte dispersione scolastica che vuol dire che molti ragazzi magari si iscrivono a una facoltà e poi l'abbandonano. Abbiamo un bassissimo numero di laureati se lo compariamo a quello che c'è nel resto d'Europa. Quindi è estremamente importante aiutare i ragazzi in questo percorso. Hanno la possibilità di conoscere gli ITS che sono questi istituti di formazione superiore. Si tratta di scuole di livello universitario che uniscono l'istruzione con il lavoro e hanno la possibilità di incontrare le scuole di alta formazione. Torna il Salone dello Studente al Foro Boario della Camera di Commercio di Chiedi Pescara. Un appuntamento fortemente voluto dalla Camera di Commercio. Assolutamente sì. È il terzo anno che ospitiamo il Salone dello Studente e lo facciamo con grande piacere perché ci consente di trattare una delle tematiche di maggior interesse della Camera di Commercio che è quella dell'orientamento al lavoro e alle professioni. La Camera è molto attiva da anni su questo aspetto e sicuramente si pone come elemento di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro. Ancora sulla pagina di Chiedi del centro, false accuse a De Cecco in due a processo. I fratelli Impicciatore, ex clienti del Re della Pasta, devono rispondere di calugna e diffamazione. Andiamo rapidamente sulla pagina di Teramo. Gastroenterologia, nuove tecniche per trattare tumori e calcoli. Il reparto dispone anche di macchinari di ultima generazione che consentono interventi innovativi. Barbera, l'anno prossimo iniziamo con l'endoscopia bariatrica per ridurre lo stomaco agli obesi. Censimento dei pini a Silvi, almeno 54 sono da abbattere su 119 controllati sul lungomare. Quasi la metà è pericolante. Il sindaco Scordella, report allarmante. Ma quelli sani non li tagliamo. All'Aquila, bruciata l'auto di un giovane operaio che vediamo rassegnato nella fotonotizia. Ennesimo attentato incendiario. si sospetta una ritorsione. Mai fatto del male, ha detto lui. L'allarme è stato lanciato da uno zio. Teppisti e movida. Ecco le ronde. Ad Avezzano, devastato un parco giochi, auto danneggiato in centro, rissa in piazza. E quindi si stanno organizzando queste ronde per le strade. Ma vediamo anche il culto del Beato Tommaso. Entra nella storia. Celano, Don Ennio, il pellegrinaggio testimonia alla venerazione. Il comune istituzionalizza la festa. Da decenni cerca il ruspista che la salvò in aula testimonianza della studentessa lancianese esposito nella causa civile per il decesso Rambaldi. L'uomo è un teramano. Stiamo parlando ovviamente del terremoto dell'Aquila del 2009. Prima dello sport andiamo sul messaggero. La pagina abruzzese Costa, i parchi diventino punto di riferimento del turismo ambientale. Abbiamo stanziato per la prima volta oltre 85 milioni per valorizzare le aree. Faremo zone economiche compatibili. Gli orsi sono sempre un bene prezioso. E ha fatto anche tappa all'Aquila. La città sta rifiorendo sul Gran Sasso. L'attenzione è massima. Attenzione che però in questi anni raramente si è concretizzata nei fatti. Pescara, prigionieri del treno al buio e con bimbi. Ancora racconti sciocche e polemiche per l'odicea di viaggiatori del Milano Pescara. Rimasti fermi per ore sabato notte nelle Marche. Trenitalia attiva le procedure per i rimborsi che saranno totali rispetto alle norme UE che prevedono il tetto del 50%. Ordinaria amministrazione sui binari italiani. Oltre mille sfratti a Pescara colpita una famiglia su tre. L'Unione degli Inquilini e Rifondazione Comunista rilanciano proposte di contenimento ovvero autorecupero e uso dei beni demaniali. Le carte truccate alla base del crack i testi contro Toto l'investigatore della Guardia di Finanza e il curatore riferiscono in aula al processo per la bancarotta di Libra la società di Daniele. E come abbiamo visto il Palano va in pensione rammarico e tristezza per Regopiano ha detto il comandante uscente dei Vigili del Fuoco Spycam per controllare le ballerine scoperte dieci entry news straniere completamente in nero simpatico anche il termine utilizzato dal messaggero per riferirsi alle spogliarelliste al nightclub la venere di Cepagatti maxi multa e locale chiuso anche la sorveglianza abusiva del personale tra le contestazioni dei carabinieri dell'ispettorato del lavoro sanzioni per 25.500 euro duetti di marijuana nell'auto dei ragazzi bene Francavilla la droga in uno zaino in quattro nei guai ragazzi bene di Francavilla l'Aquila il limite diventa per i disabili rimosso il cartello ostacolo il segnale di zona 30 divideva a metà il marciapiede il comune lo ha eliminato via della croce rossa diventa un'area in cui è previsto rallentare la circolazione lo vedete nella foto a proposito di barriere architettoniche andiamo avanti il piano scuole il caso finisce dal capo dello Stato Mattarella è rivolta contro il dimensionamento presentato dal comune lettera di docenti e personale del Rodari si sospenda iscrizione in crescita ma l'istituto dovrà essere smembrato si proceda prima con la ricostruzione degli immobili e Biondi il sindaco del capoluogo ci candidiamo a città europea dello sport 2022 prosciolto dopo 26 giorni di arresto l'ingegnere capo di Felice finì i domiciliari e dovette subire anche la sospensione dai pubblici uffici per altrettanto tempo l'inchiesta di Capistrello altri 10 anni accusati sono altri 10 accusati sono risultati del tutto estranei ma il sindaco rischia il rinvio a giudizio eccoci sulla pagina di Chieti calugna accusi a De Cecco processo a 2 imprenditori gli impicciatori hanno debiti per 2 milioni velenni sul giudizio davanti al giudice scatta pure l'imputazione per diffamazione consiglieri in 4 mai assenti e scatta la maxi indennità e i sindaci all'attacco tribunale unico c'è grande attesa in vista della riunione del 21 a Roma al tavolo tecnico ci saranno i giudici e gli avvocati la presidente del foro di Lanciano serve un provvedimento entro dicembre o sarà tardi a Teramo statua di Goldrey Callipogio la discussione a porte chiuse fans con la maglietta del robot in attesa il comune apre la porta al progetto ma ci vuole l'ok della soprintendenza è quasi un'asta per i fari del porto tutti noi li vogliono dai comitati di quartiere per sistemarli nelle rotonde fino ai titolari di alcune aziende private ma a proposito di Teramo andiamo sulla città il quotidiano appunto della provincia più a nord dell'Avruzzo le risorse arriveranno dopo la finanziaria il ministro dell'ambiente costa ha toccato anche il tema della messa in sicurezza del Gran Sasso questione annosa in Abruzzo e intanto la questione del turismo nella fiera di settore a Rimini l'assessore regionale Mauro Febbo soddisfatto per i risultati raggiunti dall'Abruzzo durante la fiera internazionale usura e estorsioni sono le piaghe teramane secondo la città la nostra provincia è al 49esimo posto d'Italia e seconda in Abruzzo per numero di reati denunciati nel 2018 arrestato con 70 grammi di hashish i militari in borghese lo tenevano sotto controllo da qualche tempo quindi il secondo arresto ieri in Abruzzo per quel che riguarda le droghe leggere vi arriverà con prescrizioni al teatro romano la conferenza dei servizi la soprintendenza interviene su copertura reperti di casa Salvoni e di Azoma Urbano entro il 25 la soprintendenza rimetterà le sue osservazioni per il progetto esecutivo e allora leggiamo lo sport sul centro andiamo subito al Pescara la serie B Delfino in buone mani in Fiorillo e il re dei portieri a caccia della terza serie A l'estremo difensore del Pescara il più attivo in campionato negli interventi dietro solo a Contini dell'Entella sabato contro la Spezia sfiderà il suo passato Iaconi Teramo avvio da retrocessione serie C il DG analizza la crisi qualcuno sta rendendo meno del previsto Tedino non rischia ma deve trovare una soluzione il notaresco è the record Vagnoni meglio di Cudini rosso-blu primi con 18 punti in 7 gare 3 in più rispetto alla passata stagione mentre il Chiede è ancora senza stadio e la società alza la voce una situazione surreale e Gragnoli Lanciano che carattere eccellenza il bomber applaude la squadra a 4 rinforzi per il Paterno andiamo avanti sul calcio giovanile poker del Pucetta e vetta solitaria il Cologna rallenta e va al secondo posto mentre vediamo il Delfino e l'Avezziano a braccetto la curina restabile e il Liver di Laga ma andiamo a leggere lo sport secondo il messaggero rapidamente arriviamo alla pagina sportiva Pescara Brunori cerca la svolta l'attaccante italo-brasiliano ha spaccato la partita di Ascoli con l'assist per Galano dopo i 17 gol di Arezzo in Biancazzurro e ancora a secco c'è lo Spezia nel Mirino e chissà se potrà interrompere questo digiuno di gol sabato inizia il Tour de Force ben 5 gare in 5 giorni un'occasione anche per testare la preparazione atletica della squadra ma vediamo anche il calcio femminile Castel di Sangro ospita la nazionale italiana di calcio femminile e adesso la serie cheat eramo flop adesso serve il pieno in casa in trasferta la squadra non riesce ancora a esprimersi per le solite disattenzioni tre impegni su quattro al Bonolis diranno la verità sulle reali ambizioni del diavolo Real difesa da sistemare ma diamutene e super del grosso su del modulo a tre e rincuora moi per quanto riguarda la serie di ancora nella stessa lega la vastese si interroga sulle assenze pesanti e sempre serie di Pineto con Rachini la difesa è diventata insuperabile il notaresco ora sognare si può il DS D'Ercole sesta vittoria consecutiva obiettivo è la salvezza ma siamo primi in merito della valorizzazione dei giovani come i cramellà intanto chiedi a Pineto anche contro la Re Canatese i tifosi sono infuriati ovviamente parliamo dello stadio che manca ancora ai neroverdi e Lavezano in serie D un KO utile per capire dove servono rinforzi e per quanto riguarda la palla a mano uno sport che leggiamo ranamente sui quotidiani Nuova Teramo vincente capitombolo per i Lions e allora spostiamoci sulle pagine sportive della città il quotidiano di Teramo che ovviamente sarà critica nei confronti della squadra della propria città ed ecco appunto la serie C gli alibi sono terminati a Monopoli 9 punti in 9 gare un avvio così disastroso non era prevedibile a potenza di buono soltanto la fase difensiva ma poi cos'altro c'è si chiede Jacopo Forcella nell'articolo sulla serie C e ancora la Palla Lions Teramo lotta ma non basta KO per 28 a 21 prima sconfitta stagionale per i biancorossi i fratelli De Angelis sugli scudi 9 gol in 2 ed ecco il basket folle e bellissima che impresa di Roseto è spugnato il tempio del Palamaggio il canestro di Mua lancia gli squali a un successo indimenticabile ed è doppio stop per Teramo e Giulianova nella giornata di serie B della palla canestro è sempre il basket Teramo a spicchi stop a termoli e stirpe non ci sta il coach biancorosso non usa mezzi termini è un'occasione persa qualcosa non va e per questo martedì 15 ottobre è tutto con la nostra rassegna stampa vi ricordo che l'informazione torna alle ore 14 con il TG6 io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon proseguimento di giornata Grazie a tutti Grazie a tutti